Colpi d'arma da fuoco nelle campagne tra Indicatore e Talzano. Questo l'allarme è scattato ieri pomeriggio dopo le segnalazioni dei residenti che hanno allertato la sala operativa della Questura, segnalando anche un'auto rossa che si era allontanata a forte velocità dalla zona degli spari. Una vicenda che si è conclusa con la denuncia di un giovane ancora minorenne. Sul posto dopo la chiamata sono arrivati immediatamente gli uomini della squadra mobile, quindi i poliziotti hanno bloccato la strada di Talzano, riuscendo a fermare un'auto sospetta. A bordo tre ragazzi, tra cui il minorenne, e proprio accanto a lui, nascosta sotto al tappetino del sedile posteriore, dopo una perquisizione, è stata trovata una pistola apparentemente salve, fedele riproduzione di un modello di Glock. Un controllo più accurato ha permesso di accertare che in realtà l'arma era stata modificata sostituendo la canna, rendendola quindi in grado di sparare come un'arma comune. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i tre probabilmente si erano recati in un boschetto da dove erano stati sentiti gli spari per provare la pistola. Un altro ragazzo a bordo dell'auto è stato trovato in possesso di un involucro di circa 30 grammi di hashish ed è stato quindi denunciato per retenzione ai fini di spaccio. Il minorenne, infine, è stato denunciato per portodarma clandestina e riaffidato ai genitori.